Ciao sono Maggio, per il format che ci porta a capire se un gioco è da acquistare, mettere in wishlist in attesa di tempi migliori o di essere ignorato andremo a vedere i primi minuti di Storyteller, un gioco edito da Anna Purna che aspettavo da tantissimo tempo perché è un gioco davvero particolare. Avremo delle vignette per spiegare delle storie, così in modo tale che anche chi è più duro di comprendonio capisca la storia. Ma detta così non sa di molto, ce l'andiamo a vedere che è meglio. Storyteller, una storia di paura. No, Storyteller, un libro su come creare storie, edito da Anna Purna. Introduzione. Alla fine di questo libro giace una corona, viene conferita solo ai migliori narratori del reame. Le pagine sono vuote a parte il titolo, è tuo dovere riempirlo con le storie più accattivanti. Completa questo libro e prova a te stesso di essere degno del titolo di Storyteller. Vita e morte capitolo 1, amore. Adamo è solo, trova l'amore e muore felice. Crea una storia con questo titolo. Quindi mettiamo Adamo, rimettiamo Adamo che trova Eva che schiatta Adamo. Così, muore felice. Bene, in questo modo abbiamo fatto Adamo che soffriva di cuore spezzato dal fatto che era solo e si ammazzava di pipette. Trova finalmente Eva e poi schiatta, perché le donne campano sempre di più. Medio per loro. Strazio. Eva muore col cuore infranto. Quindi abbiamo la morte e il cuore. No, la morte. No, la morte e il cuore. Cosa abbiamo? Ah, la confusione abbiamo. Qui abbiamo Adamo che però è morto. Quindi abbiamo Adamo ed Eva. Eva. C'è l'amore. C'è l'amore. Qua c'è la morte di Adamo. C'è Eva. C'è il cuore spezzato. Eva muore. Muore pure Eva. Questi cazzi. Allora è qua. E qui c'è il cuore spezzato. Povera Eva. Che poi diventerà successivamente puttana Eva. Ricordiamolo. Al di là. Vedere il fantasma di un amante. Quindi. Abbiamo Adamo ed Eva come al solito. Poi abbiamo la morte. La morte di tutti. Tutti che muoiono. Eva è viva. Però. Però c'è il cuore infranto. E la muore di nuovo. La muore di Adamo ed Eva. Che è un fantasma. Vedere il fantasma. Avete capito come funziona sto gioco? L'avete capito? No? Avete bisogno del disegnino? Perché c'è proprio il disegnino per spiegarvelo. E così. La prima parte. Sembrerebbe. Finita. La cerimonia. 1351. Adesso abbiamo cuore infranti. Guarigione. Un cuore infranto. Guarisce. Boda. Abbiamo Boda. Se non sapete cosa è Boda. Bene. Abbiamo Bernardo, Isober, Edgar e Leonore. Oh mio iddio. Ok. Un cuore infranto. Guarisce. Diciamo morire a questo punto Edgar. Quindi lei. Però poi dopo. Lei si rifà una vita. No. Siamo più ai tempi nostri. Si rifà una vita con Isobel. Che non è Isobel. Perché? Perché è fluida. Non è binaria. È in C++. Miracolo. Un cuore infranto. Guarisce. Quindi abbiamo sempre. Oh mio dio. Come? Ah perché facciamo schiattare una delle due ora? Ma ci basta tre storie. Non ci servono tutte. Quindi. Facciamo schiattare la nostra Isobel. Però resuscita. Ci servono tutte. E ritorna l'amore. Eccolo. L'amore. Un cuore infranto. Che guarisce. Sto facendo tutta la prima. Le prime sono semplici. Dopo diventerà una Cambogia urticante. Al gusto vaniglia. E. E napalm. Tutti respingono Edgar. No. Come tutti respingono Edgar. Eh no. Se lo respingono. Come si fa a respingerlo? Eh no. Perché c'è l'amore fra gli altri forse. Dobbiamo fare un amore fra tutti. No. Lei ha la sua. Bella. Però ormai ce l'ha di già. Edgar a questo punto. Eh no. Lei è innamorata di questo. Edgar. Ah e poi adesso dobbiamo fare la storia anche con. Bernardo. E. Isobel. No. Fuori infranto. Perché lei vuole questo. Tutti respingono Edgar. Deve respingerlo Iso. Bello. Ok. Tutti hanno respinto Edgar a sto punto. Anche lui. No. Qui c'è l'amore. Che bello l'amore. Ma non era quello che volevamo. Perché noi abbiamo. Queste che respingono. Ci manca soltanto. Ci manca soltanto. Bernardo. No. Così scatta l'amore. Cos'è che non mi torna? Ah. Non mi torna. Ecco. Cos'è che non mi torna? Allora. Questa ok. Ci vuole che schiatti una delle due. In modo tale che. No. Perché questa c'ha l'amore con lei. E qui l'ha respinto uno. Qui l'ha respinta l'altra. Schiatta. Una delle due. C'ha il cuore infranto. No. Guarda innamorato. Dice. Ma a me importa una secca. Non so neanche chi è. No. Se faccio così si innamorano però. Così va bene. Lei gli ha già dato i due di picca. Di giù la si impolisce perché è un fantasma. Scatta l'amore. Perché qui si rifanno. Sotto. Ma questa non ci serve. Questa è inutile. Questa fa di ammazzati. Col tasto destro. La rifacciamo. Allora. Boda. Loro due. Si innamorano. Poi. Succede che purtroppamente. Lei schiatta. E quindi. Lei non c'è più. No. Aspetta. Edgar. Boda. Edgar. Con la bionda. Edgar. Con la mora. E tutti gli hanno detto di no. A questo punto schiatta. La bionda. Scatta l'amore. Fra. La mora. No. Lei. Lei. Il cuore infranto. No. Oh mio dio. Lui. Così c'è amore. Oh mio dio. La sto sbagliando. Allora. Questa. Vuole quella. Quella vuole quell'altro. Però ci vuole la morte di uno. Per forza. Se schiatta lei. Dice. Ma io non so chi è. Edgar. C'è il cuore infranto. Non ce ne frega nulla. Che abbia il cuore infranto. Se la sdoppio. Evviva. Ok. A questo punto. Possiamo fare. Che lei è libera di nuovo. No. Non lei. L'altra. È libera di nuovo. Si innamora di lui. E quindi. Quando arriva lui. Respinge Edgar. Oh. Mamma mia. Mi c'è voluto un monte. Era più semplice del dovuto. E ci abbiamo il lutto. I coniugi sopravvissuti. Trovano conforto. Le storie possono usare. Meno riquadri. Ok. Quindi. I coniugi sopravvissuti. Trovano conforto. Quindi. Questa. Ok. Non si conoscono. Quindi. Chi se ne frega. Boda. Amore. Fra le due c'è l'amore. Poi stiatta. Lui stiatta. Purtroppo. Lui schiatta. Ci sta. Ci sta. Schiatta lei. Va bene. Schiatta lei. I coniugi trovano conforto. No. Lei è morta. Non può trovare conforto. Ma con lui sì. Con lui sì. E. Poi abbiamo. La morte. Lui le ammazza tutte. Muoiono tutte. Lui ha questa cosa. Le muoiono tutte. Però. Poi dopo. Scatta l'amore fra fantasmi. Si può? No. Non l'ha preso per buono? Che peccato. Con i sopravvissuti trovano conforto. Devo cambiare i coniugi. Non può essere sempre lui a morire. Ogni tanto deve morire qualcun altro. Purtroppo. È una trama un po' così. Deve schiattare anche lui ogni tanto. Lei c'è il cuore infranto. Ma poi. Ma poi. Trova l'amore. Con il nostro Edgar. E direi. Che arrivati a questo punto. Potrei interrompere. Questo video. Introduttivo. Dove abbiamo visto i primi minuti. Per capire appunto. Se merita l'acquisto. Di essere messo in wishlist. In attesa di tempi migliori. O di essere ignorato. Perché proprio non fa per voi. E siete degli esseri disumani. Potrebbe interrompersi anche qui. Ma. Se volete vedere altre puntate. Scrivetelo. E magari vi faccio delle puntate. Due ore e mezzo. In cui vi passa la voglia. Anche di esistere. Vi ringrazio per il tempo passato insieme. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.